Abbiamo superato le 30 unità iscritte, conto di averne almeno 40-45 come l'anno scorso. Mi rendo conto di riuscire a coinvolgere tante persone che fanno parte del comitato, tanti giudici, tanti organizzatori. Noi, come oramai è consuetudine, il sabato che è interessato dalle regate, alla sera organizziamo un conveviale per tutti gli equipaggi e lo facciamo distribuendo le località di tutto il Tiguglio. Quindi questo è un indotto anche turistico e fa lavorare un po' di ristoranti e anche qualche albergo. Ma noi abbiamo anche una grossa fortuna, abbiamo la Porto di Lavagna che quest'anno per fortuna non ha subito danni e quindi ci ha confermato la disponibilità dei posti barca gratuiti per i quattro mesi che coinvolgono il campionato invernale. Abbiamo la Quantum, la velleria Quantum Sail, abbiamo poi Gorondona da due o tre anni che ci addolcisce i conviviali. Quest'anno abbiamo Crew Corner. Personalmente ho perso la mia barca di famiglia, come sapete, nella mareggiata, per cui la voglia di esserci un po' più da fuori, meno da regatante, un po' più per aiutare chi regata e chi compete perché poi alla fine l'importante è far vedere che ci siamo e che comunque abbiamo voglia di fare sport. Il livello internazionale è stato un anno sicuramente il migliore da quando a Quantum è stata fondata. ha vinto i mondiali, sicuramente è stata la velleria che ha vinto più mondiali nelle classi più importanti. La nostra azienda è nata tre anni fa e ovviamente è cresciuta nel tempo perché inizialmente uno ha degli obiettivi che poi piano piano crescono nel tempo. Noi cerchiamo di dare supporto a altre legate, anche per dire il negozio, di trovare tutto quello che per loro è necessario, quindi da le cerate ai primi strati, ai secondi strati, agli accessori, alle calzature, anche con la possibilità di personalizzare i capi. Quindi se volessero fare delle divise con i numeri velici, il nome dell'imbarcazione, è possibile farle.